750 metri a nuoto nel lago grande di Avigliana e poi 20 chilometri con la bici da corsa sul circuito da Avigliana a Trana e infine per chiudere la gara 5 chilometri di corsa intorno al lago di Avigliana in questo splendido parco naturale a due passi dal centro storico di Avigliana e questa la gara che i master affronteranno il 3 di agosto nell'ambito degli European Master Games e sembra una sfida per superman anzi per Ironman e invece non è così. Noi siamo chiamati anche Ironman come definizione per la distanza comunque non è uno sport soltanto per super uomini o super donne, è uno sport per chiunque, chiunque si può affacciare a questo sport è veramente uno sport divertente, sembra molto diciamo visto da fuori alle prime volte sembra una cosa estrema, vi assicuro che chiunque può affacciarsi a questo sport. L'occasione degli European Master Games è fondamentale per promuovere il nostro territorio, accogliere tutti gli sportivi e anche i turisti che vorranno visitare questo luogo straordinario, ci impegneremo affinché questa diventi l'occasione per scoprire un territorio intorno alla città di Torino che sta continuando a crescere e che offre molte occasioni di divertimento, di socialità e di esperienza. Tutti gli anni, la prima domenica del mese di agosto si organizza ad Avigliana una bellissima gara di triathlon sulla distanza olimpica, questa volta la si trasforma in distanza sprint e noi confidiamo che tutti quelli che verranno ad Avigliana da tutti i paesi mondiali possano apprezzare la collocazione della gara in questo magnifico scenario delle prealpi. La gara partirà esattamente da questo punto del lago con i 750 metri di nuoto, acque calme e sostanzialmente condizioni ideali per poter nuotare. Ci sposteremo dopo la frazione di nuoto con una breve transizione sulla strada dove sulla bretella che collega Avigliana a Trana si svolgerà la prova di ciclismo. Conclusione finale con un giro attorno al lago di Avigliana dove gli atleti metteranno fine alla loro prova dopo circa un'ora di gara. La gara di Avigliana è una gara storica nel calendario delle gare italiane di triathlon in quanto è una gara che era già presente nel 1989. Quindi vi auguro un ottimo divertimento e vi prego di venire tutti a gareggiare qui a Torino. Grazie. 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 Grazie.